Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua in un nuovo video Oggi andremo a fare una teoria sul possibile passato di Kaido Di come è diventato un imperatore Inizio partendo a dire che sono solamente teorie E prima del video, visto che alla fine quello non se lo guarderà nessuno Quindi radicolore questa cosa Non abbiamo potuto fare tanti video con Valerio perché abbiamo avuto un problema con YouTube Che ancora non stiamo riuscendo ad aggiustare ma sappiamo quando riusciremo ad aggiustarlo E quindi c'è stato un periodo di... non so, non avevamo voglia appunto tanto di fare video Però ora ci ritornate, stiamo ricominciando e non vi preoccupate che ora inizieremo a fare tanti più video Soprattutto nel periodo di Natale Detto questo possiamo iniziare con la teoria Come ho già detto oggi andremo a parlare di Kaido Cosa sappiamo di Kaido principalmente? Sappiamo poco ma sappiamo che comunque cerca di morire e non ci riesce E questo ci fa presumere che sia appunto una pelle durissima, comunque sia mortale E che anche magari non ha un frutto perché se avessi un frutto e volesse morire si sarebbe buttato in acqua Quindi più o meno queste sono le cose che sappiamo Ma perché secondo voi si vuole uccidere, non ha più voglia? Tanto che ha scatenato pure una guerra, sta scatenando una guerra Secondo me prima di diventare un'imperatore Da me non era né un gigante, né indistruttibile, né un pirata e aveva pure una famiglia E ora vi spiego tutto Secondo me Kaido era una persona comune, un cittadino normale che aveva pure una famiglia Ora non so perché, né come, ma comunque delle persone sono andate ad ucciderlo E gli hanno fatto anche quella enorme cicatrice che ha a suo fianco Perché se appunto è indistruttibile che nessuna lama o niente è riuscito a scalfirlo o ucciderlo Com'è che si è procurato quella cicatrice? E quindi secondo me questo è uno degli indizi per andare appunto a scoprire come ucciderlo O comunque come è diventato così forte E appunto queste persone che hanno ucciduto la sua famiglia L'hanno infritto questa cicatrice prima ancora che diventasse appunto così mortale Quindi pieno d'odio, in un certo senso scappo, comunque c'è alcun modo per vendicarsi E incontra Vegapunk secondo me ragazzi perché Come abbiamo visto Cesar che era appunto diciamo un allievo di Vegapunk Mi ha fatto vedere che è possibile trasformare le persone in giganti Infatti come possiamo vedere anche dal laboratorio che c'è a Punk Hazard C'è una scritta, c'è un'immagine dove c'è l'attenzione E poi c'è una faccia di una persona con le corne Che assomiglia molto a Kaido ma comunque anche a UTR E quindi secondo me Vegapunk uno dei suoi primi esperimenti l'ha fatti con Kaido Infatti lo riesce a farlo diventare gigante e anche immortale Una volta fatto questo Kaido può finalmente avere la sua vendetta In modo da potersi vendicare E secondo me chi è stato appunto questo che ha ucciso le sue persone In base da quello che sappiamo Vediamo che Kaido ha distrutto tutta la ciurma di Geekomoria da solo Ma perché questo? Secondo me era appunto per vendicarsi Visto che non so perché Geekomoria secondo me ha voluto uccidere la sua famiglia Quindi una volta ucciso la ciurma Comunque riuscito a vendicarsi di Geekomoria Non sapendo più che cosa fare Inizia a diventare un pirata Diventa un pirata E poi sappiamo tutti come appunto Cosa è successo È stato che è trovato la marina Ma nessuno poi è riuscito a ucciderlo Quindi secondo me Questo potrebbe essere Il passato di Kaido Ora Io vorrei pensarlo così A grandi linee più o meno questo Non so voi ragazzi Voi che cosa ne pensate? Fatemi sapere se la teoria vi è piaciuta E anche cosa pensate voi Su come Kaido E perché è immortale Perché è così gigante Ma anche del suo passato Fatemi sapere E niente Se volete altri video teorie Fatecelo sapere Vi invito a passare sul nostro sito Oppure sulla nostra pagina facebook Ho detto questo Vi lascio Ciao 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 Grazie a tutti.